Via Mameli, ex capannine discoteca, è una zona abbandonata a tutto. Qui vedi il cancello, è aperto, non c'è nessun lucchetto, entriamo, come siamo entrati noi, può entrare chiunque, la zona è abbandonata a se stessa, qui alla notte bivaccano extracomunitari, gente che non può altro che delinquere agli esolo. Si vede com'è, entriamo, andiamo avanti, bottiglie di birra per terra, ecco, noi siamo dentro, all'interno della discoteca. Eccola qui, e qui, chiunque può venire a dormire. Questa è una delle tante schifezze di Esolo. Giugno 2012, il 16.